Sra. Emane, ora è chico, mi devo comprenderli che è molto di 105%? Non sono quasi 105% da Pappiana, Dijè. Lo che è qui è il rapporto di... A me messo non ho lecce, però, le informazioni che ho ricevuto da Pappi di un mega debito con Aruba che ha rincato in Dijè nel momento qui? No, assolutamente, Aruba non c'è un debito di 105%. Aruba, il debito è grande, ora con il nostro bingangiele e il nostro arriva, un manejo, cammina con un deficit di 400 milioni, il nostro bingangiele con 75 milioni e mi sono molto contento che per la prima volta nella storia non ti miro, arrivo a un balance budget nel 2016, grazie nel lavoro con il nostro lavoro e il rapporto di IMF che miro qui anche e la Pappi di un'aruba a superare il manejo del governo qui non un'crisi, ma due crisi. Con la elezione 2013, la mia collega Puntroff ha diserciato, il nostro bingangiele sta mirando e sta chiedendo per una coalizione. Il nostro bingangiele sta disposti per la cinta di un'aruba a 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 un gruppo. Ora com Hobby, dem butterfly, adesso ho colato un'aruba a un'aruba a un'aruba a un'arubbildung, and tant HIV vai travo la lista, un'am entrare con noi a pagare milioni di floris nella rio, non ci si prendendo con noi a pagare milioni di floris nella offizia dei aboggi observeri. E il nostro bingangiele sta privilègiando ai identicali a un'aruba a un'aruba a un'aruba a un'aruba a un'aruba a un'aruba a un'arга a un'aruba a un'aruba a un'aruba a un'ar bleach devotion. Noi vogliono un governo che abbia il suo porto, per il popolo donare la sua opinione, in modo che noi troviamo la lista di un caso di partito, per il popolo che deve donare la sua opinione, per sapere che è la sua priorità. Il popolo vuole il popolo, il popolo non vuole il popolo, il popolo vuole il popolo, un membro del Parlamento, che vota contro una legge per aumentare la idade di pensione di 50 anni, per il parlamentario, per 60 anni, o per il ministro di 45 per 60 anni, per il popolo vuole il popolo, 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 per continuare nel 2013. Signor Eymar, per evitare di ascoltare qualcosa che mi ha detto, che il popolo è stato fatto, per il popolo, per il popolo, non sapevo di una altura, ma la religione è avuta dal desacordo di una iglesia, da una distante dalle altre iglie. Nel rapporto è un'avvp, è l'appunto di un'avvp e altri partiti. mi noto coincidì con la forma con la 3L di l'alte per explicare più in dettagli se mi noto di accordo con il manejo del sr. Mike Eymann come leader mi sali e mi formi il mio partito corretto? e che un afflorece e produrre leader in grande